che l'air zoom si sente, che lo zoom x si sente, c'è anche l'air zoom, anche su queste come l'alpha fly, diciamo che Nike sta andando avanti anni luce rispetto agli altri come scarpe, soprattutto come intersuola, perché è davvero... Cosa fareste, e lo dico candidamente, se vostro figlio vi rovinasse un esperimento che dura ormai da 5 anni e che doveva concludersi nel 2025. A volte però il caso ci aiuta e ci fa capire che l'evoluzione delle scarpe da running è molto veloce, così come sono cambiati velocemente i gusti dei podisti amatori. Per il mio compleanno grazie a Nike ho preso queste fantastiche Nike Tempo Next Percent e nel momento in cui sono arrivato a casa ho visto nel mio giardino tutta l'evoluzione delle calzature che per eccellenza vengono utilizzate per gli allenamenti. Come dice Jack Daniels, uno dei più famosi allenatori americani, la Tempo Run, che in italiano si chiama potenza aerobica lipidica o fondo medio veloce, è proprio l'allenamento che insegna il corpo a migliorare il vostro metabolismo energetico. E quando mio figlio Matteo, che mi ha detto qualche settimana fa che le mie Lunar Tempo 2 sono davvero delle scarpe fantastiche, ho pensato di paragonarla alle versioni precedenti delle scarpe d'allenamento intenso di Nike. Alle Zoomfly Flyknit, di cui ho avuto quattro modelli del 2018, con un'intersuola in React di 232 grammi, scarpe forse non adatte per tutti. Oppure le Zoomfly 3 che abbiamo recensito nei mesi scorsi, scarpe che si sono democratizzate e hanno visto aumentare sia il peso sia la quantità di React presente nell'intersuola. Oppure alle Pegasus Turbo 2 che sono scarpe sicuramente più morbide, ma meno reattive e più leggere, perché mancanti della piastra in carbonio ma con un ritorno all'origine perché il comportamento è molto simile a quello delle Lunar Tempo 2 del 2015. E quelle nuove, le Tempo Next% a che cosa somigliano? Per capirlo vediamo velocemente le specifiche. Tra l'altro se non l'avete ancora fatto non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, questo vi permetterà di avere in anteprima le recensioni di tutte le scarpe di corsa che abbiamo descritto nelle settimane scorse e sulle quali abbiamo già realizzato una serie di video interessanti. Sappiate che le ho utilizzate in pista, tra l'altro pista in Regupol, la stessa superficie dello Stadio Olimpico di Berlino. Le osate pure sul Tapirulan, ma per fare una recensione completa aspettiamo la fine del lockdown. Con Andrea, di certo analizzando i dati RunScribe e correndo il medio di 12 chilometri, un'idea me la sono sicuramente fatta. Dicevo le specifiche sono davvero eccellenti i drop 10, 45 mm sì avete capito bene, nel tallone 35 mm nell'avampiede. Il più attento ascoltatore direbbe quindi Massi tu non le puoi usare in gara. Tecnicamente no, praticamente sì perché alla fine nessuno degli amatori deve partecipare a una gara internazionale IAF e di conseguenza ovviamente, a parte che le gare non ci sono, ma è possibile utilizzarle pure in una gara locale. Ad ogni modo l'azienda dell'Oregon definisce questa scarpa come quella più veloce per gli allenamenti, quindi non parla ovviamente di gare, suggerendo invece di affiancarla all'Alpha Fly per le gare, soprattutto per quelle di lunga distanza. Per quanto riguarda il peso sono di 262 grammi, una via di mezzo delle due versioni precedenti ma più tendente alle Zoom Fly 3. Ad ogni modo secondo me il peso non si sente molto ai piedi, la Tomai in Flyknit è una versione leggermente diversa rispetto a quella solita, tra l'altro vedendola in controluce semitrasparente i lacci sono asimmetrici molto simili invece a quelli che avete visto sulle Vaporfly 4% e sulle Zoom Fly Flyknit, non c'è una linguetta perché la scarpa è davvero un calzino, l'occhiello posteriore sul tallone aiuta a infilarla, le prime volte non è così banale ma la calzata si mostra davvero molto aderente. La tomaia è sicuramente più elastica di quella delle versioni precedenti. Il tallone è un cuginetto molto comodo e nella parte del mesopiede una fodera davvero più morbida. Tra l'altro il tallone è rigido e consente di tenere il piede ben bloccato combinato davvero con una tomaia molto salda. Come dicevo prima una sola attenzione è dovuta al fatto che nell'avampiede la scarpa è molto filante e stretta, tenete conto che per gli aficionados del marchio Nike questo non è un problema, ma se provenite da altre marche assolutamente è una scarpa da provare. Volgendo l'attenzione al cuore della scarpa che ovviamente l'intersuola, l'intersuola è composta da due mescole una React e una Zoom X che si fondono tra di loro in maniera coinvolgente. La mescola React è più resistente e duratura invece il Zoom X è più elastico e veloce ma il comportamento della corsa è in effetti influenzato da due altri fattori, ossia dai due cuscinetti presenti sui metatarsi oltre che ovviamente dalla piastra che in questo caso è in nylon e non in carbonio. Come tutti sappiamo la connotazione che viene data al nylon è sicuramente negativa perché fu utilizzato per la prima volta durante la seconda guerra mondiale per sostituire la seta nei paracaduti dei soldati americani. Sappiate però, e questo non lo dice quasi nessuno, che il nylon ha maggiore resistenza e durabilità sia della seta ma soprattutto del carbonio. Provate per credere a correre delle ripetute dopo 700 chilometri delle Zoom Fly 3 con piastre in carbonio, fatemi sapere, vedete cosa succede, sicuramente la piastra è quasi inutilizzabile. Infine un commento particolare sulla suola, larga, anzi larghissima, nell'avampiede per migliorarne la stabilità e poi più stretta e lunga nel tallone per incrementarne invece l'aerodinamicità. Inoltre nel mesopiede la base è sicuramente minuscola, sappiate che non appoggerete comunque mai di mesopiede come d'altronde evidenza chiaramente RunScribe ma anche un'ispezione visuale laterale della scarpa stessa. Non starò a idearvi nel comportamento delle Temponex per cent nella corsa, sappiate però che sono pensate per allenamenti veloci, per medi veloci, non di certo per i lenti dove sono molto instabili a causa dei 45 mm. Provate a correre sul Tapirulan se non siete d'accordo, in tal caso se avete la fortuna di avere le Lunar Tempo 2 potete invece correre sul Tapirulan in maniera semplice anche perché c'è scritto che sono Run Easy. Concludo dicendo prima di passare la parola ad Andrea che come invece veniva scritto e detto su alcuni siti e su dei canali YouTube americani questa scarpa non provoca una fascite plantare come invece appunto era stato detto, di certo se soffrite di fascite plantare non ve la consiglio anche perché la scarpa è abbastanza rigida. Per quanto invece riguarda il rumore derivante dall'appoggio al terreno con suole e cuscinetti questo è davvero un problema innegabile, in effetti abbiamo fatto qualche test però secondo me è un byproduct accettabile per tutto quello che invece la scarpa consente di offrire al podista amatore voluto. Abbiamo in effetti misurato il suono che è arrivato a fino a 90 decibel sul Tapirulan, io corro in maniera molto rumorosa ma con queste scarpe si arriva veramente all'estremo. Dicevo però che secondo me è un compromesso accettabile anche perché alla fine del mio famoso medio di 12 km ho avuto una sensazione sicuramente positiva e il giorno successivo non ho provato quella stanchezza nelle gambe che invece di solito cerco di togliere utilizzando il mio amico e compagno di avventura Compex con il quale di solito faccio attività di capillarizzazione il giorno dopo gli allenamenti intesi. Ora lascio la parola ad Andrea che dopo la prima corsetta in un video pre-DPCM del 3 novembre 2020 ci racconta le sue principali sensazioni, sappiate che se questo video raggiungerà le 5.000 views sicuramente faremo una recensione completa non appena questo avverrà. Ciao Andrea tutto bene? Ciao Max tutto a posto? Dopo aver fatto la recensione o la pre-recensione dell'Alpha Fly, ora vediamo anche cosa ne pensi del Tempo Next Percent. Allora sì, guarda eravamo in dubbio se prenderla o no, alla fine l'hai presa, alla fine forse era il caso di prenderla così è stato. Sì diciamo che forse sarà l'erede della Zoom Fly, quindi la vedremo sul mercato molto spesso, bisogna capire adesso come risponde in pista sicuramente, qualche miglioria rispetto alla Zoom Fly vecchia, vediamo se mantiene comunque tutte le stesse caratteristiche che ci erano piaciute. Chiaramente ci hanno detto fate la recensione, però servono i chilometri, però al tempo stesso la vogliono abbastanza rapidamente, quindi oggi parliamo delle caratteristiche di questa scarpa. cosa dici della Tomaya? Eh bravo, partiamo da quel punto lì, questo qua è il modello da 27 centimetri di max, sicuramente troppo stretto, dovrei andare sicuramente sul 27 e mezzo, 27 centimetri e mezzo che è il mio, abbastanza lunga ma stretta in avampiede, quasi mi si accavallava l'aluce e per il resto come l'Alpha Fly hanno deciso di fare questa specie di calzino che faccio fatica ad inserire il mio piede col collo alto, però poi quando ci inserisci il piede rimane davvero preciso e fermo. Qualche blogger americano ha detto che comunque la scarpa è abbastanza rigida, tu calzata come l'hai vista? Sì no te l'ho detto, poi è vero ma poi soprattutto questo qua che è mezzo centimetro più piccolo l'ho sentito subito, mi risulta sì abbastanza scomoda a me, però una scarpa rigida per fare gli allenamenti e le gare secondo me ci sta. Confermo però che al mio piede non è così scomoda? No no, cioè scomoda nel senso per il piede, però mi parlavi di rigidità e precisione per me è giusto anche così per gli allenamenti, anzi se ti ricordi sulla seconda Zoom Fly si erano aumentati in parecchi che in curva non teneva eccetera, almeno così quel problema ce lo si è allevati. E a livello di intersuola sappiamo che questa ha una combinazione React e Zoom X, cosa dice? che il React si sente, che lo Zoom X si sente, c'è anche l'Air Zoom anche su queste come l'Alpha Fly, diciamo che Nike sta andando avanti anni luce rispetto agli altri come scarpe, soprattutto come intersuola perché davvero forse solamente le Oca con le Carbon X o le Rincon gli sta dietro come scarpe, ma è un po' anche ASICS in effetti adesso si sta lanciando e si sta migliorando, questo Zoom X qua davvero mi piace un casino e lo metterebbe su qualsiasi scarpa. In quali allenamenti le testeremo? Ah questa qua è una scarpa gara, medi, ripetute, sicuramente non andrà lenti, sui lenti mi piange il cuore quando vedo qualcuno che ci va in giro, sono scarpe da velocità diciamo quindi sono da usare lì. E il color mango? Il color mango è tanta roba, il color mango si avvicina a Rosa che era sulle Next e secondo me ci sta. Beh io le ho prese mango perché ovviamente al coniglio piacciono. Se le magna, no diciamo che va bene Nike fa anche delle belle scarpe da vedere, queste qua, anzi queste qua le Alphafly appena le consumiamo le usiamo per andare in discoteca quindi quando le riapriranno se le riapriranno. Va bene grazie Andrea ci vediamo alla prossima. Dai alla prossima. Stavo pensando di metterci qualche lucina dentro alle Next, le Alphafly. Se vi è piaciuto il video non dimenticatevi di attivare le notifiche anche perché nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni e se questa vi è piaciuta probabilmente anche quelle successive vi piaceranno. Dimenticavo di dirvi che io sono Massi, in questi giorni difficili per l'Italia, stay strong, keep running se potete, ci vediamo alla prossima sicuramente in settimana. Ed ora vi lascio in compagnia del coniglio alle prese con la conoscenza delle nuove scarte, ciao e a presto.